Mercati agroalimentari siciliani slitta il 9 maggio il trasferimento degli operatori nella struttura di Contrada-Iunghetto, una proroga per consentire l'ultimazione dell'adeguamento dei box. Intanto a pochi giorni dall'avvio ufficiale continuano le polemiche sulla scarsa sicurezza della strada che porta al MAS. Il servizio di Valeria Ravisarda. Slitta di una settimana il trasferimento al MAS degli operatori del mercato ortofrutticolo, una proroga concessa dalla CDA della struttura di Contrada-Iunghetto per consentire ai commercianti di ultimare l'adeguamento dei box. Il 9 maggio quindi è prevista l'apertura ufficiale di quello che si appresta a diventare il mercato del Mediterraneo. Il giorno prima, domenica 8, gli operatori organizzeranno una festa per dare la possibilità ai cittadini di conoscere le nuove location dei tradizionali mercati. Slitta anche la chiusura del mercato di San Giuseppe l'Arena. A 30 anni dal progetto, il tanto discusso mercato agroalimentare diventerà quindi operativo, ma non mancano le polemiche dovute al mancato adeguamento della strada e alla carenza di sicurezza. La scorsa settimana il SOMAC, sindacato degli operatori del mercato ortofrutticolo, ha infatti inviato due telegrammi. Uno alla provincia di Catania per chiedere la sistemazione di contrada a Iunghetto e uno alla prefetto per chiedere invece un incremento delle forze dell'ordine. Ad oggi però nessuno ha ancora risposto. Un problema, quello della sicurezza e della viabilità, sollevato anche da Gianluca Michalizzi, presidente di Fedital Imprese Sicilia, che ha affermato, nonostante i progetti di ammodernamento più volte dichiarati, la strada provinciale contrada a Iunghetto rimane ancora lì, tra curve, strettoie, buche e discariche abusive. L'isolamento e la scarsa illuminazione fanno temere assalti da parte di rapinatori e in generale ciò che si vuole presentare come un fiore all'occhiello per la produzione del commercio siciliano rischia di non essere valorizzato al meglio. Credo che il massa, ha concluso Michalizzi, possa realmente rappresentare un trampolino di lancio per l'economia siciliana e locale, ma occorre che questi interventi siano effettuati nel più breve tempo possibile.